tutto pronto partite e cavalle della seconda corsa sugar beat la più veloce ad uscire dalle gabbie si porta subito al comando con un ritmo però non esagerato seconda posizione per rose secret che ha chiuso da favorita quota fissa in terza si sistema lungo la corda norona per cedere la blueberry frivola e poi a chiudere il gruppo troviamo bridge battrango e la grigia style setter come detto andatura non trascendentale sta gestendo i parziali in avanti a proprio piacimento torresulas con rose secret che si è posizionata nella sua scia stessa cosa che ha fatto norona seconda corsia galoppa frivola stessa posizione ma alle sue spalle per style setter che poi lascia in coda ma comunque a contatto bridge battrango cavalli che sono quasi l'imbocco di pista grande nulla che sia cambiato sempre sugar beat a cadenzare il ritmo in seconda posizione galoppa la favorita rose secret a precedere frivola che galoppa in seconda corsia poi ancora norona con in coda bridge battrango e style setter cavalle a metà curva si è cominciata ad incrementare leggermente l'andatura con sempre in vantaggio sugar beat ad un paio di lunghezze troviamo rose secret che al suo esterno frivola poi norona che galoppa lungo la corda in quarta posizione bridge battrango e style setter a completare il quadro intersezione delle piste con sugar beat che ha cominciato a incrementare ulteriormente i giri rose secret che non la perde mai di vista l'ha presa proprio nel mirino con norona che va per corsie più interne frivola dal centro la pista sposta all'esterno anche la stessa bridge battrango con style setter ancora più al suo esterno sugar beat superata di slancio rose secret che dà un'altra accelerazione frivola che non la perde di vista bridge battrango che si presenta dal centro la pista norona che su questo parziale è rimasta un filino lì con rose secret che accelera ulteriormente bridge battrango si è messa sulle gambe sugar beat che ha mantenuto la posizione nell'ultimo tratto di gara però rose secret viene a onorare il ruolo di favorita battendo sugar beat e al terzo bridge battrango vince dunque rose secret con dario vargi in sella terza vittoria in carriera e nove corse disputate per la figlia di sacchi secret il training è quello di aldoino botti i colori di stefano botti 4 al primo posto 6 al secondo 1 al terzo 461 è l'ordine d'arrivo provvisorio della condizionata premio zino rivediamo le battute conclusive 2 75 la quota fissa che generalmente trovate sui bookmaker per rose secret va in archivio così anche la seconda grazie a tutti grazie a tutti